BELLA A TUTTI DA WORKMOZ Questo scivolo l'abbiamo fatto insieme a PORKITALY Allora Ci buttiamo raga Guardate che roba scivola pure tantissimo È meraviglioso Ovviamente noi lo testiamo pure con altri veicoli Allora qua c'è solo sto problema che rimbalza Però Meraviglioso ovviamente io c'ho sempre Le onde più alte di GTA V Da quando ho fatto quel video Con la tavola da surf Allora con che ci buttiamo Le volevo buttare pure un po' di suini Che dite? Aspettate Sì le mettiamo tipo qua raga Duplichiamo duplichiamo Peccato che non li posso far spawnare più veloce Ah avete idea raga guardate che cosa strana no? Allora il simboletto è bugato no? Ma se io duplico i suini Si sbugga Non chiedetemi il perché Perché non lo so raga Veramente molto strana questa cosa Spero che cascano Che dite cadono raga perché Teoricamente Non lo so raga Aspettate un po' di suini Ok Guardate che spettacolo Quali sono io? Eccomi eccomi No no scusate scusate suini Ok Che veicolo siamo? Un arena war raga Aspettate Allora facciamo spawnare Quelle arena war dovrebbero stare qui Su per giù Aspettate che li cerco Ok Praticamente non li trovo raga Non mi chiedere perché Se vedete che ho sbagliato un attimo la DL e celista Vediamo un po' quello che succede raga Che sto leggermente curioso Andiamo Aspetta No non cadono Forse No no cadono 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 Però piano 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 Perché non va al claxon? Non lo so Poveri sui Ok uno sta cominciando a scendere Eh li devo mettere un po' più avanti raga No l'altro si è rialzato Ok quello sta per scivolare Aspettate vediamo questi Che combinano Si rialzano là No 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 Quello sta scendendo raga Aspettate Sì sì questi stanno a scendere raga Osserviamo Questo si è rialzato eh Non so come ha fatto Anche questo si è rialzato raga Quello sta scivolando tipo in una maniera assurda Qualcuno ce la fa? Sì uno Uno solo ce l'ha fatto Sì sì Guardate che effetto che fa Meraviglioso questo scivolo Ma io non capisco perché non funziona il claxon raga Ma questo veicolo scusate Da quando è così potente il retromarcia? E calcolate che è super ripido Ok non riesce più a risalire Aspettate eh Senza fare danni Ok non ho toccato lo scivolo Proviamo a far cadere altre slune raga Da visite quanti ne rimangono eh Perché sono così tosti raga? Ma non vuoi mettere tanti Pedoni vicino? In questo caso suini Succede questo No però non riescono a scivolare proprio bene 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 Se invece mi butto io Eh io sì La miseria raga Ok Oh Pure la macchina mi ha preso raga Allora voglio fare un'altra cosa adesso Vediamo se riusciamo a fare tipo una cosa del genere Mettiamo uno scivolo qua Lo duplichiamo E teoricamente Aspettate Eh qui è un po' complicato eh Però possiamo fare così Aspettate Ok così è meglio Mettiamolo un po' più alto Vediamo un po' se riusciamo a collegarli tipo O perlomeno fagli fare il salto raga Allora l'altezza vediamo un po' Non ci siamo ancora Ancora no raga Vediamo così Ancora più basso Aspettate Eh ho capito dove sta il problema raga Ce la faremo Ok Diciamo che dovrebbe andare bene raga Vediamo se riesce a fare più di uno scivolo raga Allora andiamo in un nostro suino Che effetto meraviglioso Spettacolare Ok Siamo pronti Andiamo Vediamo un po' eh Speriamo che riesce a fare il doppio scivolo Oh si è messo pure bene il suino Meraviglioso Eh no si è rialzato Ok Uh raga ci siamo Ci siamo Ci siamo Ah voglia l'ho messo pure bene Ok Poi non si capisce niente Sembra tutto mare eh Oh Alleria Poi lo suino urlante eh Ok E ha funzionato Vogliamo provare a scendere tipo con una moto d'acqua Vediamo un po' che succede raga In questo caso ci abbiamo un piccolo problema Quindi dobbiamo fare tipo così raga Ok Riesce ad andare avanti Ma è spento Sembra spento Ok 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 raga Ci siamo Non va più il clacson Non chiedetemi perché Non lo so Guardate come scivola bene a moto d'acqua No qua saltiamo tutto Alla miseria Ricatteriamo la fine raga Ok Allora diciamo che ho capito un attimo la distanza Quindi si potrebbe fare pure qualcosa di epico Cioè apparentemente mettere Lo scivolo là dopo un mega salto Ok Proviamo a fare un'altra challenge Allora ho messo lo scivolo d'acqua lì Secondo ce la facciamo Aspettate si può buttare tipo con cerchio Ah si si può si può Allora vediamo un attimo dove sta Qui Quindi super giù dobbiamo saltare lì Ok Reggiriamoci Andiamo raga Ole No Per pochissimo Ok Ho cambiato un attimo il posizionamento dello scivolo Adesso dovrebbe essere perfetto raga Allora No Perché si è buttato così Vabbè non fa niente Ci buttiamo da qua che è meglio forse Eccolo là lo scivolo Via Così si che è perfetto Ma io perché mi devo trollare raga Arzuino oggi Allora Dove sta questo scivolo Perché deve cascare Perché raga Perché Oh vado dall'altra parte eh No no tutto ok Tutto ok finalmente Bello che mi rimette pure bene raga Meraviglioso Guardate come mi scivola Ole Ovviamente ci stanno pure altri scivoli Che vi porterò in altri video Però Questo scivolo fatto di acqua raga Guardate che effetto che fa È stupendo eh Meraviglioso Con che altro possiamo fare raga Non saprei Ok guardate cosa ho creato in due secondi Li ho uniti tutti quanti Meraviglioso Megascivolo unico raga Allora Sembra tutta acqua eh Non si capisce niente eh Questo è l'unico problema Vedete Ovviamente Come si fa a fare le ombre qua Non ce la fa il gioco Però Meraviglioso lo scivolo così Volevo buttare un po' di gente Però non scivola raga Perché non deve scivolare Se no possiamo fare Oddio No possiamo fare una cosa raga Come ai vecchi tempi Che fece un video da Big Pork Allora dobbiamo fare così Mettiamo qua che è il punto dove scivolano no Poi Lo alziamo Tipo così Perfetto Mettiamo un altro cubetto qua Perché noi ci mettiamo qui Poi Facciamo 350.000 suini Stavolta ce la dovrebbe fare Sicuro al 100% Speriamo che non sto duplicando la parte sotto raga Ok mettiamo così per sicurezza Allora miseria quanti Dovrebbero bastare eh Su per giù Credo proprio di sì Se non mi crasha il gioco Uno è cascato Vediamo se scivola Sì che scivola questa volta Allora Noi facciamo così Lo mettiamo dinamico In modo tale No no aspettate Qual ero io? Dimmi che sono questo Aspettate Sono questo? Sì Dobbiamo prendere Pure una granata va bene Aspettate ci mettiamo qua Così vediamo tutto La buttiamo lì No Dove l'ha buttati? No Non sono scivolati Regà Ce l'ho io crede Se butto una granata là Che succede? Eh Teoricamente sono mortali Vero Sono scivolati? Perché sono scivolati da solo? Da soli? Ah Perché si vogliono spostare E poi scivolano Regà Guardate Sì Cadono Cadono Eh piano piano Regà Piano piano Ce lo dovrebbero fare A cadere Ok Buttiamo un po' di granate Aspettate che ci buttiamo Pure noi Vediamo un po' se prendiamo Qualche strugino Oh Questo è cascato Perfetto Ci vogliamo insieme Su No Questo ci ha bloccato Allora Quelli si dovrebbero rialzare Teoricamente No no Tutti e tre in Tu sei in acqua Regà Tutti e tre in città Eh sì Oh Ma stavolta è andato Leggermente più piano Riprendiamo al suo Ma le macchine Scivolano Regà Proviamo un attimo Facciamo spawnare qui Teoricamente Dovrebbero scivolare Regà Oh yeah Alla miseria Regà Sì sì Le macchine Scivolano D'addio Oh yeah Vediamo un po' se qualcuno Si ferma Questa sembra tipo Che sta frenando Ah no È normale Che arredo di sì Perché teoricamente Sono spent Regà Ma a me piace troppo Questo effetto Peccato che dall'alto Non si vede così Perché ovviamente Qua riprende il cielo Vedete che è più chiaro Meraviglioso Comunque dobbiamo concludere Questo video in bellezza Che possiamo fare Regà Un qualcosa di super epico Ma vediamo cosa inventarci Ok regà Per concludere il video In bellezza Vediamo un po' Se è possibile È così un scivolo Gigantesco Regà Vi prometto Che poi vi porterò Uno scivolo Mega galattico Allora vediamo un po' Ho cercato di fare Tipo una curva lì C'è la granata È male Il suo Che è leggermente Pericolosa Questa cosa La dovrebbe scivolare No Non ce l'ha fatta Girare Perché ovviamente Tocca qui Sì regà Come l'ho messo Non ce l'avrebbe mai fatta Però possiamo continuare A scivolare Non è un problema Scendiamo giù Alla fine Potevamo mettere pure Qualche suino Per fare strike Regà No Ora secondo me Non ce la fa spostarlo Ok Ah è vero Qua c'è un altro scivolo ancora Regà È infinito Finisce più E dopo Andiamo nel laghetto Regà Guardate che meraviglia Ollè Regà Comunque sì Sariamo su Ok Se vi è piaciuto Questo video Con il nuovo scivolo D'acqua Fatto di acqua Regà Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo Vitti Bello E noi ci becchiamo